Salve a tutti, io sono Koopa, detta anche Creeperina, e benvenuti in questo nuovo episodio di Bini Gami su iPixel. E questo pure io, ciao, sono Kyle. Direttamente da... L'Austria. Non dà senso. Così... Vabbè, oggi Gamiini che facciamo? Facciamo le duel. Vabbè, crea tu la partita. Ok, buon ciao. Ma... Ma... Ah, ma siamo noi due contro la loro due. Sì. Facciamo le scavibus duel. Ok. Ovviamente... Ovviamente i ladri subito a rubarmi tutto. Ulli... Diamantina. Tenga, tenga. Vabbè, dove ho trovato quella? Diamantini. Iniziamo a prendere... Eh, posso trovare qualcosa pure io? A inchiarare la armadura in diamante. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma non vale! Dire... Avevo fatto pena... E dire poco. Appunto, facciamo due il CEO contro Teno. Allora, facciamo due Steve. Bello come inizio partita. Cambiamo tipologia. Ora, o mai più, ora, o mai più. Cosa? È male a metterti contro di me. Alla larga. Ha ha! Ti sei giocato la lava, ti sei giocato la lava. Io invece ce l'ho ancora la lava. Io ce l'ho ancora. Ce la sei appena giocata? Che fino ho fatto la mia acqua? Ho mangiato tutte quante le mele che avevo. Wow! Fai a non morire. Ho finito i blocchi. Ho finito le frecce, non ci credo. Penso proprio di infinità. Ma perché? Senti, non sono un maestro, ma me la capo. Vieni a fare corpo al corpo, vieni. Scusate, cosa servite? Devo un attimino ricaricare gli HP. Ti ricordo che non vale. Cosa non vale? Caricare gli HP. Ma dove sta scritto? Dove sei? Sì, ma non riesco a capicciarti. Perché stai laggando? Dai! Ma com'è possibile? Questo è citt... Questo è cittare. No, questo è giocare, è bene. No, questo è cittare. Che non ha senso. Dai, facciamone un'altra. Questa volta gli do un piccolo busto. È normale. Se tu prendi la mia nata e me la butti addosso, non è giusto. Questa volta mi do di togliere i tre cuori. Tanto vuoi solamente power, stupido? Ma va a fa' un bagno, avevo anche un altro secchio di lavoro. Guarda l'altro. Guarda l'altro. Sì. 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 Bello usare le arc. La spade in diamante non ti leva, dici cuori a colpo. Tu provo ad usare dieci dita su un solo tasto. Va bene, questo video mi sa che lo chiamo, lo chiamo, anche in questo video. Dai, questa volta gli do un busto, mi puoi togliere i tre cuori. Però fallo. Ok, mi hai tolto i tre cuori. Ma cosa? Ma che c'è il flintestil? No, c'ho la lava veloce. Sì. Un di altro i riflessi veloci. Ma io c'ho l'acqua, perché non la uso. Prima te lo mi cliccio nei blocchi, però... Perché non mi fa scappare? Ma perché non sai fare PvP? Perché con i cheater non gioco. Ma non sono un cheater, semplicemente mi hanno insegnato delle tecniche di PvP. Ma se io mi devo rimanere nello stesso blocco in eterno, come cacchio faccio? Eh, dillo, no? Così io smetto di attaccare. Ma l'ho anche detto. Non l'ho sentito, evidentemente. Laggo come la morte, 65,5 secondi. Guarda, sto cercando di camminare e non me lo fa fare. Io ti vedo camminare. Beh, io vedo tutto a scatti. Sì. Tutto a scatti va. Che fila ha fatto la troppo bucket? Sto uscendo la canna da pesca per niente. Appunto che mi voglio avvicinare. Attenzione, non sto neanche usando i blocchi. Che sento non posso usare i blocchi? No, io non sto usando i blocchi. No, io non sto usando i blocchi. Il lard per ti sento. Che devo piantare di mangiarmi tutte le mele assieme. Infatti una può bastare. Ah, ecco perché abbiamo lasciato per raccoglierli i blocchi. Ma vedi che sto facendo un'altra cosa, no? Non mi hai fatto neanche danno tu. Andai facendo una bedware. Oppure una due, però non io contro te. Noi contro altri. Altri. Che dici? Se si trova la modalità giusta. Ok. All'attacco! Ok, la secchiata di lava non serve a niente. Ho capito. E vattene. Ma come fa a colpirmi da lontano? Allora non è un problema solo mio. Vabbè, questo video lo chiamerò come non sapere giocare le duels. Minigame 8. Vabbè, facciamo una bedwars. A suo punto la stacco qua questa e facciamo una bedwars. Ok. Da questo video tragico è tutto e altra poco con le bedwars. Ciao. Altra poco per me. Ti intende. Allora poi magari magari che ti sono un poccasco, eccociato di tutto. Ciao. Grazie.